ciao a tutti e benvenuti nel tutorial di oggi andremo insieme a vedere ferro per ferro come realizzare questo meraviglioso punto mezza tela guardate che gran bell'effetto che andiamo a ricavare con questa semplice lavorazione da davanti si presenta con questo meraviglioso motivo a rilievo molto fine e curato guardate che spettacolo invece da parte da di dietro si presenta appunto in modo differente il suo rovescio con le maglie appunto a rovescio questa è una lavorazione che ci permette andare ricavare un motivo bello pieno quindi un motivo che aggiunge il volume al nostro filato può essere utilizzato veramente per tantissimi progetti dei diversi stagioni in base al filato che andremo utilizzare in più questo motivo che possiamo andare utilizzare anche per i progetti maschili bimbo donna in quanto davvero molto fine fa parte di quei motivi unisex ora andiamo insieme a vedere la sua realizzazione noi ci siamo innamorati di questo motivo e della sua finezza e soprattutto la facilità nella sua realizzazione il nostro motivo è multiplo di due maglie e di quattro feri però la sua lavorazione va portata avanti con il numero dispari di maglie per riuscire a riprodurre l'effetto scacchiera e per riuscire a creare appunto queste ondine a rilievo oblique perciò noi per il nostro campioncino ora andiamo a avviare 13 mali con avvio alla nordica e ci ricordiamo che andiamo a lavorare con il numero dispari appunto ed ecco che abbiamo avviato le nostre 13 mali ora il nostro primo ferro noi lo dobbiamo andare lavorare tutte le mali a diritto a diritto semplice questo primo ferro è anche la parte diritta del nostro lavoro quindi siamo sul ferro di andata e andiamo quindi lavorare tutte le maglie a diritto anche la ultima maglia di vivagno la facciamo a diritto ed ecco partiamo con il nostro secondo ferro ferro di ritorno la maglia di vivagno noi la spostiamo e ora partiamo con la lavorazione delle maglie dividendoli in coppie partiamo con la prima coppia la prima maglia della prima coppia noi la dobbiamo andare spostare senza lavorare mantenendo attenzione il filo da di dietro in questo modo la manteniamo dietro non la spostiamo la manteniamo dietro seconda maglia della coppia invece la andiamo lavorare a diritto semplice ed ecco che abbiamo fatto la prima coppia di cui una maglia lavorata prima è spostata una lavorata ma spostiamo mantenendo il filo rivediamo un'altra volta prima maglia della coppia si sposta mantenendo il filo dietro la seconda si lavora a diritto normale e così si procede per tutto il secondo ferro di cui la prima maglia della coppia si sposta la seconda si lavora a diritto e ci ricordiamo che il filo va mantenuto dietro ed ecco qui abbiamo fatto il ferro numero 2 ora il ferro numero 3 tutte le maglie li lavoriamo a diritto e ci ricordiamo che tutti i ferri dispari vanno lavorati a diritto e rappresentano il ferro di andata quindi la parte diritta del nostro lavoro ed ecco qui ora il ferro numero 4 noi lo dobbiamo andare lavorare mantenendo lo stesso identico schema di lavorazione cioè una maglia si sposta e una si lavora però scambiando le posizioni quindi andremo a ricreare e riprodurre effetto scacchiera perciò se nel ferro numero 2 avevamo spostato la prima qui la prima maglia della coppia la andiamo a lavorare a diritto semplice la seconda la andiamo a spostare senza lavorare ma sempre mantenendo il filo da di dietro questa unica differenza la prima maglia della coppia si lavora la seconda si sposta invece nel ferro numero 2 avevamo fatto il contrario la prima la spostavamo la seconda la lavorevamo quindi i nostri ferri pari vanno lavorate in questo modo a coppie una volta spostiamo una volta lavoriamo e ci ricordiamo di andare a riprodurre questo effetto scacchiera i ferri di spray invece vanno lavorate a diritto e mantenendo questi 4 ferri noi andiamo a riprodurre il nostro meraviglioso questo meraviglioso punto mezza della è facilissimo da fare ora il nostro ferro numero 5 andremo a fare tutte le maglie a diritto il ferro numero 6 andremo a lavorare come ferro numero 2 e così dobbiamo andare a procedere per tutta la lunghezza del nostro progetto speriamo che questo motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegarvi bene tutti i passaggi che sia utile e chiaro se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altre novità in arrivo e non dimenticate di attivare la campanella per ricevere la notifica quando esce un nuovo tutorial grazie a tutti e al prossimo video tutorial grazie a tutti grazie a tutti